La cattura della selvaggina per il ripopolamento delle zone venatorie d'Italia viene effettuata da uno speciale ufficio istituito dalla Confederazione Fascista Agricoltori d'accordo con la Federazione ai Cacciatori per eliminare l'importazione di selvaggina straniera dal ripopolamento. Le catture avvengono per mezzo di reti verticali stese in speciali centri di allevamento e con la cooperazione di squadre di battitori. Qui vediamo una caccia alla lepre nella campagna romana. Le bestie incalzate dai battitori incappano infallibilmente nelle reti, donde vengono liberate da retaioli specializzati che le radurano in cassette di concentramento. Un tecnico le esamina per l'accertamento dello stato di sanità e del sesso, quindi le bestie messe in apposite cassette vengono spedite in tutta Italia, nei vari centri da ripopolare.